delitto panzieri domani interrogatorio in romania di alessandrini raffica di furti a villa fastigi residenti esasperati riqualificazione piazzale d'annunzio lavori fra aprile e giugno strada della contessa doppi turni di lavoro per dimezzare i disagi scuola e lavoro con partigianato lancia job talent buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati a rossini news il telegiornale del canale 80 che in questa edizione di martedì 28 febbraio apriamo occupandoci degli ultimi aggiornamenti sull'omicidio di pierpaolo panzieri a pesero infatti previsto per domani nel tribunale di timigioara il primo interrogatorio di michael alessandrini che deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario del 27enne pesarese all'interno dell'abitazione di via gavelli dunque interrogatorio in romania e contestualmente l'avvocato di alessandrini salvatore asole ha presentato istanza per la richiesta di perizia psichiatrica del suo assistito ancora cronaca ma di tutt'altro genere parliamo in questo caso di furti e in particolare di quelli che stanno avvenendo nel quartiere peserese di villa fastigi particolarmente preso di mira dai ladri in questo mese di febbraio ci troviamo a villa fastigi uno dei quartieri più popolosi della città che in questo mese di febbraio sta convivendo con il timore dei ladri terzo weekend di fila quello che ci lasciamo alle spalle in cui i ladri hanno colpito alcune abitazioni di questo quartiere se in particolare nell'ultimo weekend tra sabato e domenica tra quattro furti andati a segno e due mancati 10 e addirittura è il weekend precedente una situazione davvero non più sostenibile come ci sottolinea anche il consigliere di quartiere luca pandolfi tre weekend consecutivi con inseguimenti poi fatti persone che sono venute in contatto direttamente con questi con questi ladri non è possibile che una situazione del genere continui perché bisogna assolutamente trovare dei provvedimenti come possono essere quello delle telecamere che abbiamo sollecitato tante volte anche a livello comunale e anche quello del vizio di quartiere vizio di quartiere che però sia sul territorio e non che debba fare diciamo pratiche burocratiche alla circoscrizione o altre cose insomma ecco qui c'è bisogno assolutamente di un intervento un intervento deciso e immediato per evitare che si ripetano ulteriormente queste cose ci sono persone che vanno a letto con con la paura di trovarsi di fronte in casa propria delle persone che stanno rubando i loro affetti più cari e come dicevamo non solo domenica ma anche la domenica precedente diverse abitazioni una decina addirittura sono state visitate dai ladri tra furti andati a segno furti mancati e furti che sono stati completati a metà è il caso quest'ultimo di dell'abitazione della signora lorenza alla quale è bastata allontanarsi mezz'ora da casa per ritrovarsi ignoti nella propria abitazione è successo domenica sera il 19 mi sono assentata a mezz'ora io nel weekend sono stata sempre in casa perché potevo stare a casa e volevo stare a casa in quella mezz'ora io sono tornata alle 130 a casa salgo la scala apre il portone ma la mia seconda porta interna era inchiavata dall'interno al che ho realizzato subito che dentro c'era qualcuno anche perché schiamazzavano si davano l'avvio per uscire e subito sono scavalcati il terrazzo da dove erano entrati a piedi pari non hanno badato a non avevano timore e io l'istinto mi è venuto di urlare inseguirli inseguirli e l'ultimo a pochi metri da me ha visto che io non mollavo e quindi è tornato indietro di qualche passo mostrandomi un arnese non so che cosa insomma minacciandomi di mi intimoriva un furto mi diceva riuscito a metà probabilmente sì forse riuscito a metà perché io mi sono sentata talmente poco e loro in questa mezz'ora 40 minuti hanno fatto diverse case io sono stata l'ultima e la mia assenza è stata davvero talmente poca che magari non hanno no non hanno finito il colpo su cosa hanno puntato a solo ore con tanti e torniamo anche ad occuparci del caso del bio laboratorio che dovrà sorgere nel quartiere pesarese della torraccia che è passato per ulteriori interrogazioni nel consiglio comunale di ieri il caso della realizzazione del bio laboratorio alla torraccia come nuova sede allargata e ampliata nelle funzioni dell'istituto zooprofilattico continua a rimbalzare fra manifestazione di dissenso e interrogazioni in consiglio comunale sabato in tal senso 300 persone si sono riunite in via furiassi per ribadire il loro no davanti a questa realizzazione rispondendo all'appello delle telecamere del programma fuori dal coro di rete 4 e al contempo insistendo anche in una petizione che al momento sta riscuotendo più firme fuori regione che in città ieri invece ha riportato il caso in consiglio comunale la consigliera lisetta sperindei facendo da cassa di risonanza ad ulteriori richieste di chiarimenti avrebbero potuto partecipare anche altri enti senza fini di lucro con attività e finalità più affini all'attuale assetto urbanistico della zona come i settori commerciali culturali ricettivo ricreativo sportivo eccetera poi perché non è stata rispettata la logica del piano GA già in essere che ha una vocazione diversa rispetto all'arrivo di questo laboratorio e diciamo questo spallanzare degli animali con sale contumacciali fra le richieste della sperindei anche una risposta a un presunto impatto negativo a livello turistico alle quali l'assessore pozzi ha replicato difendendo la bontà della scelta e dell'investimento del comune urbanisticamente quell'area è idonea e una delle poche aree di proprietà del comune di pesaro compatibile coerente con con la realizzazione che sarà in essere che cosa voglio dire voglio dire che dal punto di vista urbanistico quell'area è una delle poche conformi che non richiede una variante tant'è che è stato il motivo per cui è stato stato proposto e si è lavorato su quell'area. Sulla terza si chiede se è previsto sul tema delle ripercussioni da un punto di vista turistico, no non sono state valutate delle possibili ripercussioni da un punto di vista turistico in merito alla realizzazione di un biolaboratorio come non è stato fatto nelle decine di città italiane che hanno laboratori di sicurezza BLS3 come nelle città che anzi hanno un BLS4 e ne fanno motivo di vanto perché non è un laboratorio da cui fessure escono patogeni, è un laboratorio che nasce, e questo riprendo le parole del direttore, nasce per tutelare la salute dell'animale e dell'uomo. Questo è l'obiettivo con cui nasce, non so se lei è vegetariana piuttosto che carnivora, se una persona compra la carne da mangiare spera che quella carne sia controllata, che non abbia virus, che non ci siano situazioni che in qualche modo possano passare dall'animale all'uomo. L'obiettivo con cui nasce questo laboratorio che in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo diventa motivo di orgoglio e di soddisfazione per una città sulla quale vengono realizzati degli investimenti per la tutela della salute, qua è diventato motivo di preoccupazione da parte di qualcuno, strumentalizzato da parte di altri, non penso che lei sia in cattiva fede, però cerco in ogni modo di farle presente che questa è la situazione. Ed ora vediamo una notizia arrivata proprio in questo tardo pomeriggio. Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquarola, ha infatti annunciato l'arrivo dei primi 96 milioni e 700 mila euro destinati a comuni, famiglie e imprese duramente toccati dalla calamità devastante dell'alluvione dello scorso settembre. Si tratta dunque della prima parte dei 400 milioni stanziati dal governo che consentiranno la ripartenza di queste comunità colpite. Più fondi e tempi di lavoro pressoché dimezzati. E' questo l'accordo raggiunto fra Regione Marche ed Anas per terminare il cantiere sulla strada contessa fra Marche e Umbria entro il 2023. Il servizio. I lavori sulla strada Flaminia e in particolare sul tratto della contessa sono improcrastinabili, ma Regione Marche e Anas hanno lavorato nell'ultima settimana per trovare un punto di incontro che attenui disagi. Punto di convergenza conciliato nell'accordo con Anas che porterà a completare i lavori entro Natale anziché nei 15-18 mesi inizialmente previsti. Anas intensificherà i lavori con doppi turni frequenti su un'arteria strategica per i comuni e le attività che si sono riunite ieri nella sede di Confcommercio Marche Nord che per prima aveva suonato il campanello d'allarme alla Regione. Con Anas in una sola settimana, quella che è appena trascorso, abbiamo gestito le complessità. Le complessità di un'arteria fondamentale come la Flaminia e il passo della contessa verso l'Umbria, verso Gubbio e quindi verso le 45 verso Roma in maniera molto attenta e puntuale. Per questo ringrazio Anas perché ha dato risposta concreta a tutto il pacchetto di richieste presentate dalla Regione Marche. Oggi ne darà contezza all'associazione di categoria e ai sindaci del territorio. Qui sicuramente c'era stato un difetto di comunicazione, non si era ritenuto dal lato Umbro dove avverranno i lavori importanti questa arteria per la nostra Regione. Invece per la Regione Marche questa arteria è fondamentale, tanto che nel masterplan delle infrastrutture stradali approvato più di un anno fa dalla nostra Giunta, per la Regione Marche quell'arteria è considerata un cardene fondamentale della maglia stradale marchigiana. Anas lo ha capito subito con i suoi vertici nazionali e oggi è qui proprio per questo. L'investimento complessivo dell'intervento è di circa 6 milioni di euro. Un intervento complesso che prevede la demolizione e il rifacimento dell'impalcato del ponte denominato Via Otto della Contessa, contraendo le lavorazioni con migliorie tecnologiche e con l'incremento dei turni di lavoro, riusciamo a contenere i tempi di programma lavori restituendo la percorribilità prima del prossimo Natale. Quindi prima di Natale l'arteria tornerà fruibile per i marchigiani, non dovremo aspettare più di 12 mesi per utilizzare quel tratto stradale considerando che il viadotto da tutte le accertamenti e le analisi tecniche condotte da Anas è risultato che la classe d'attenzione su quel viadotto lungo circa 190-200 metri è alta. Tematica viabilità e rischio isolamento particolarmente sentiti da un'importante fetta di territorio provinciale. In Confcommercio ieri sera erano infatti presenti in gran numero sindaci, vertici di associazioni di categoria e delle aziende di trasporti. La chiusura della Contessa è un dramma per le imprese della nostra provincia, particolarmente per Fano, Marotta, ma per tutta la Vallata, tutta la Via Flaminia insomma, tutta la Vallata del Metauro, tant'è che sono tutti i sindaci della Vallata presenti a questo nostro incontro. Poi ovviamente tentiamo di salvare il salvabile e quindi anche di non far chiudere la Contessa in questi giorni perché questo era previsto e di almeno posticipare la chiusura dopo le festività pasquali, se questo fosse possibile per salvare almeno le festività per le nostre imprese turistiche e della ristorazione. Anas nell'occasione ha misurato anche le tempistiche della viabilità alternativa in questo 2023. Ci sono due percorsi, uno che allunga di 10-15 minuti il tempo di percorrenza e vale per i veicoli leggeri, invece per i veicoli pesanti l'allungamento è superiore, intorno ai 25-30 minuti e porterà il traffico sulla Tre Flaminia. E restiamo in tema di trasporti ma in questo caso parliamo di treni. A Pesaro infatti arriverà l'Euronight che collegherà la capitale italiana della cultura a Monaco e a Vienna. Lo ha annunciato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Da oggi è infatti già possibile prenotare il proprio biglietto sul sito di Trenitalia anche se il treno, va ricordato, sarà attivo dall'11 giugno e durerà per tutto il periodo estivo. Prima fermata Ancona, poi Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini e Bologna fino al cuore dell'Europa. Si viaggerà di notte con possibilità di scelta fra ogni genere di sistemazione a bordo delle Convoglio. Dopo il casco da leggenda di Valentino Rossi, in questa primavera piazzale d'annunzio di Pesaro si prepara a diventare una nuova piazza ricca di verde e maggiormente attrattiva per quello che riguarda il lungomare cittadino. L'assessore Riccardo Pozza ha infatti annunciato oggi l'approvazione del progetto esecutivo di rigenerazione dell'area dall'importo complessivo di 500 mila euro. Individuata la ditta giudicataria dei lavori di rigenerazione, si andrà a definire un cronoprogramma con lavori che saranno compresi fra aprile e la fine di giugno. Nel progetto verrà spostato sia il percorso della ciclabile, che sarà ulteriormente illuminata, sia il casco da leggenda. Contessualmente ci sarà anche una massiccia piantumazione di specie digitali e di postazioni a sedere. I valori della scuola e dello sport saranno portati in campo dall'istituto privato pesarese Iesdini attraverso una iniziativa di aggregazione che vedrà il suo svolgimento nell'area sportiva di via Luca della Robbia. Creare un momento di aggregazione tra diverse fasce di età attraverso attività ludiche e sportive. Si fonde su questi valori di integrazione sociale la nuova proposta fatta da Iesdini, la scuola privata di recupero per l'ottenimento del diploma con sede a Pesaro, che per fare ciò intende riqualificare un luogo che da tempo necessita di un recupero. Il progetto Iesdini Academy con l'iniziativa scuola e sport ritiene fondamentale la riattivazione di un'area sportiva come quella in via Luca della Robbia per dare la possibilità ai genitori a partire dal 6 marzo di lasciare i propri figli dalle 15 alle 18 per lo svolgimento di attività di dopo scuola. Dal calcio al basket passando per la pallavolo. Un coinvolgimento a 360 gradi con l'interessamento anche delle realtà sportive più importanti del territorio come WL e Vispesaro. Nel periodo estivo poi si proseguirà con i camp in cui saranno chiamati in causa anche diversi personaggi di sport a livello nazionale come Carolina Moraci, allenatrice di calcio femminile e Francesco Montervino, ex calciatore di Serie A con la maglia del Napoli. Unione tra il territorio, tra i cittadini e la parte appunto del comune e unione anche per quanto riguarda la Vispesaro e la WL perché in questo progetto dove andremo a creare dei camp estivi andremo a creare un progetto che si chiama Sport e Scuola dove appunto sarà unita la parte di formazione con la parte sportiva. Nel futuro ci sarà la possibilità di dare questo spazio anche alle scuole sia statali che private quindi unione anche tra giovani e anziani perché poi sarà un posto, un luogo dove per me sarà fondamentale unire tutti i cittadini di Pesaro quindi nessun conflitto con società sportive sia di basket che di calcio sarà unione, non voglio andare contro a tante situazioni quindi unione. Come anticipava Simone sono i camp con protagonisti veri campioni, campioni del passato e del presente che potranno quindi insegnare quelle che sono le basi proprio del gioco del basket piuttosto che del calcio e del volley, interagire con i bambini, insegnare loro che lo sport è in primis rispetto delle regole, interazione, inclusione e quindi avremo modo anche poi di poter procedere con progetti che non siano poi soltanto in ambito sportivo ma abbraceremo anche associazioni relativi a quello che è l'ambito della legalità. Ed ora ci occupiamo di alberi pericolanti a Pesaro in via Solferino. Il servizio verde di Aspes ha infatti deciso di procedere all'abbattimento di otto pini domestici. Aspes riferisce che non ci sono alternative e dopo l'errore di valutazione commesso 40 anni fa di collocare queste piante nel posto sbagliato ad oggi non è più possibile purtroppo cercare di rimediare. Le radici non hanno abbastanza spazio per svilupparsi e queste negli anni hanno già più volte trovato una via d'uscita risalendo sul matto stradale e danneggiando la pavimentazione mettendo così a rischio l'incolumità di ciclisti, motociclisti, automobilisti e passanti. La Fondazione Caritas di Pesaro da novembre ha dato il via al Fondo Emergenze Cibo e Utenze, una campagna di sensibilizzazione dedicata a due particolari necessità. Quella alimentare e quella relativa ai costi delle utenze e delle abitazioni. La risposta della comunità è stata confortante perché la Fondazione ha fin qui raccolto 82.447 euro di cui quasi 26.000 donati da privati e parrocchie e gli altri 56.000 da imprese e istituti bancari. Juan Diego Flores viene riconfermato come direttore artistico del Rossini Opera Festival fino al 2026 dopo la sua nomina a Roff che avvenne nel 2021. Dunque un percorso che continua col tenore peruviano che si affermò proprio a Roff nel 1996 debuttando giovanissimo e dando il via ad una carriera che lo ha visto esibirsi nei più importanti palcoscenici al mondo. Il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi ha presentato il progetto definitivo del nuovo asilo nido comunale di Via Tronto che porterà ad 80 unità il numero di bambini che potranno frequentare la struttura, ovvero 27 posti in più rispetto agli attuali 53. L'opera finanziata dal PNRR per 2.200.000 euro prevede spazi flessibili e diversificati che potranno ospitare più attività in contemporanea e che porteranno la superficie della struttura a più di 900 metri quadrati. E domani alle 17.30 invece la Biblioteca San Giovanni di Pesaro presenterà il progetto della Scuola dell'Infanzia Maestre Pie Venerine, scuola che ha ricostruito con un plastico in l'edificio della stessa biblioteca. Un modellino dunque che sarà visitabile fino al 26 marzo realizzato, arredato e curato nei dettagli dai piccoli alunni dell'istituto assieme ai loro genitori nell'ambito di un progetto didattico dal titolo Per educare un bambino ci vuole un villaggio. E ora ci occupiamo anche dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Pesaro Urbino che assieme all'Associazione Diabetici di Pesaro ha tenuto la conferenza sabato scorso dal titolo La colonna vertebrale e i fattori di rischio, prevenzione a scuola e sul posto di lavoro. Una conferenza tenutasi presso la stessa sede dell'Asso Diabetici, intervento centrale di questo convegno quello del kinesiologo Luigi Magarò della Fondazione Scogliosi Italia che ha illustrato i diversi fattori di rischio a cui oggi la colonna vertebrale è maggiormente esposta. In particolare ci si è soffermati sul ruolo che la scuola può avere nel dare una corretta informazione ed educazione con iniziative teorico-pratiche e osservazione posturale per la salvaguardia della salute della colonna vertebrale dei ragazzi in crescita. E invece questa mattina nel Salone Metaorense della Prefettura di Pesaro la confartigianato Ancona-Pesaro in accordo con otto istituti scolastici provinciali e anche altre realtà del territorio ha presentato il portale Job Talent, un portale in grado di rispondere alle esigenze di imprese e lavoratori. Vediamo in questo servizio di cosa si tratta in questo che è anche un estratto di uno speciale che abbiamo realizzato e che andrà in onda lunedì 6 marzo alle ore 21.40. Siamo nel Salone Metaorense della Prefettura di Pesaro per la presentazione di una iniziativa fortemente voluta da confartigianato Pesaro e Ancona. Si tratta del portale Job Talent, è un portale informatico che metterà in connessione le imprese che hanno bisogno di cercare personale con chi invece è in ricerca del lavoro. Si tratta di un progetto davvero molto ampio che coinvolge le amministrazioni comunali e le scuole. L'obiettivo di questo portale è cercare di contribuire a risolvere il problema della difficoltà di reperimento di mano d'opera da parte delle imprese che è arrivato ormai quasi al 50% quindi un'impresa su due oggi fa difficoltà a trovare personale. Noi vogliamo essere, costituire parte attiva insieme agli altri operatori del mercato del lavoro per contribuire a limitare questa criticità del mercato del lavoro. È un portale quindi online di semplice consultazione sia per le imprese che per i lavoratori, di accesso gratuito per i lavoratori e in questo momento stiamo svolgendo un servizio gratuito anche per le imprese proprio nell'intento di essere utili al mercato del lavoro. L'impresa che vuole pubblicare un annuncio deve compilare un form di contatto, viene contattata dai nostri referenti territoriali per accogliere tutte le informazioni che servono per redigere l'annuncio nel modo più opportuno e contemporaneamente alla pubblicazione dell'annuncio facciamo già una ricerca nella banca dati lavoratori per vedere se abbiamo lavoratori disponibili con i requisiti richiesti dall'azienda. Segnaliamo all'azienda solo i curricula di effettivo interesse cioè rispondenti alle esigenze dell'impresa. Il lavoratore può registrarsi al portale per inserirsi nella banca dati in modo generico oppure può candidarsi per uno specifico annuncio. Automaticamente si candida anche nella banca dati. Nel portale sono presenti oltre 550 lavoratori, abbiamo gestito più di 250 richieste che sono sfociate in oltre 150 annunci per le mansioni più diversificate sia impiegatizie che operaie. Il portale è già funzionante, stiamo già operando nella provincia di Ancona e in parte abbiamo già iniziato anche nella provincia di Pesaro Urbino quindi operiamo su entrambe le province. La Confartigianato è molto attenta alle problematiche che vivono oggi le nostre imprese e la nostra comunità. Un tema che oggi è assolutamente attuale è quello del fabbisogno di personale. Le imprese in questo momento così complesso hanno necessità di collaboratori. Il centro studi di Confartigianato stima che tra febbraio ed aprile nelle Marche ci sarà un fabbisogno di circa 30.180 persone e di queste c'è una grande difficoltà perché è stimato che il 50% delle imprese farà fatica a trovare questo tipo di personale contro una media nazionale del 46% e per questo come associazione non ci limitiamo ad evidenziare quelli che sono i problemi ma a cercare di trovare delle soluzioni. E da qui il portale Job Talent. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata che come ogni martedì alle 21.20 è dedicata a Cycling the Land TV, il nostro format settimanale sul mondo della bici da strada e-bike MTB e molto altro, come detto appuntamento alle 21.20. A seguire alle 22 vi riproponiamo una puntata di storie, racconti di successo nella provincia di Pesaro e Urbino. La storia in questione è quella dell'imprenditore pesarese nonché ex presidente di Confindustria Provinciale Mauro Papalini, appuntamento come detto alle 22 e poi le repliche giovedì alle 15.15, sabato alle 19 e domenica a mezzogiorno. E poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta come sempre alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione sarà curata dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. E invece si conclude qui lo spazio informativo di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.